Abbiamo fatto un evento molto molto importante in Giociaria e ci siamo innamorati di un pezzo meraviglioso, scritto da questo giovane, Lutatura. Grazie per il giovane. Abbiamo fatto un evento molto bello e molto importante ad Anagni e ci siamo innamorati di questo pezzo. Un applauso, aiuto! Grazie a Sari! Luca! Luca! Andiamo diretto in sol? Andiamo diretto in sol! Andiamo! E no, ma fermete là! E no, ma fermete là! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.